Il mio canale 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 Quindi, questo è il mio canale Che ne pensi? Divertente, ben montaggi Ma Di preciso, chi cazzo ha le storie di otobie? Come chi è Yotopi? E' il miglior youtuber Mai esistito il più simpatico In Italia, nell'Abruzzo e nel Molise Ho capito, ma non può essere messo La mente di Yotopi Prova a fare qualcosa di diverso Che so, che blei, adesso vanno tanto di moda Fello Guantez Bentornati Sono Matteo Conosciuto anche come Il meglio del tubo con web Oggi andremo a scoprire Perché l'araldo dello smeraldo Ci frattume i coglioni Ripetendo sempre la stessa frase Muori tu t***a, muori! Secondo me non sono adatto a fare i video gameplay Mmm Allora potresti fare qualche video con i Facciamoci Conoscere Di Croix I'm a Trumpster motherfucker Ragazzi, questo è Facciamoci Conoscere Io sono Matteo Io sono Francesco E questo è un bicchiere No Ho capito Allora potresti fare qualche live su Twitch? Magari Siamo online Eccoci Salve Salve Non iniziai a sfermare i giochi Oggi ci sono i grandi pacchi della vita Guarda manchina dello culo Che saluta a tutti in casa la chat Babbana Termosifoni Bannate ma... Sei pronto? Si Questo è Street Soul Scrotobower Il lottatore della frequente W'e Che tutti seguono Tutti... conoscano Tieni 민chio Menn99 grazie minchio me per il tuo conto una cosa minchio me per il mio sambucco dai mio sambucco continua coi tributi va i'ma chumpster motherfucker